Ciao Armando, non ci saluti? Ah, da lontano, va bene, dai. Sì, sì, da lontano. Ma sei dimagrito davvero, eh? Eh, mi ricordo che l'anno scorso hai detto che avevo i fianchi, quindi... Ah, stai benissimo. Senti che fai bene, Maria. Ma mia, sei uscito da una sfilata. Stai bene, davvero? Grazie, anche voi. E l'umore come stai, invece? Bene, mi posso accomodare? Senti, certo. L'amore male perché stai qua. Eh, è un anno un po' particolare il mio. Vabbè, magari... Sono racconti appuntate, magari facciamo una serie. Beh, forse il periodo che ti sei assentato da uomini e donne magari avrai avuto qualche storia, no? Vabbè, ma dobbiamo chiedere... No, è così, è appena arrivato uno, anche per... Non lo vediamo da tanto. Per accoglierlo così, insomma. Vabbè, comunque... Dai, è un anno colorato, diciamo così. Bene. Particolare a 360 gradi. Ti vedo calmo, è cambiato qualcosa? Sì, un po' di pazienza in più, un po' di maturità. Appena è entrato. Giustamente, appena è entrato, giustamente. No, 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 no. Sei più calmo? Diego. Per forza. Sei contento che arrivi a trovare un bando? Ciao, Roma. Ciao, Diego. Ah, sono contento di rivederlo, certo. Grazie. 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 Grazie a tutti